Si chiude con oltre 10.000 presenze la quarta edizione del Festival delle Religioni di Firenze, la rassegna ideata da Francesca Campana Comparini dedicata nel 2019 al tema Orate. Quattro giornate di riflessioni e incontri per confrontarsi sul valore del tempo, della preghiera, del rapporto tra l'uomo, Dio e il mondo. La quarta edizione del Festival si è svolta interamente nella Basilica di San Miniatalmonte di cui sono concluse proprio nel corso del Festival le celebrazioni per i mille anni dalla Fondazione. 11 appuntamenti con 14 ospiti su tutti, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che ha incontrato il Patriarca Armeno Carechi in secondo in un profondo e simbolico abbraccio ecumenico prima di ufficiare nel pomeriggio la celebrazione eucaristica di chiusura della Porta Santa. Tra gli altri appuntamenti, grande successo per l'elezio di padre Enzo Bianchi, di Massimo Cacciari, del medico di Lampedusa Pietro Bartolo e a conferma di quanto il Festival sia davvero un luogo di incontro, a San Miniato si sono confrontati sociologi come Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, scienziati come Stefano Marmi, religiosi come l'imam di Milano e il rabbino di Firenze, senza dimenticare l'incontro inaugurale con Ronald Loder, presidente del World Jewish Congress.